Ben trovati dalla redazione del Tg della mobilità. Ultimo fine settimana di zone a traffico limitato notturne aperte. Ancora per questa notte l'accesso a centro Testaccio, Trastevere e San Lorenzo sarà libero. Dal primo settembre a partire da San Lorenzo e Trastevere le ZTL torneranno in funzione anche di notte. Cantiere in città e in via salaria circolazione di nuovo regolare tra piazza di Priscilla e Viale e Somalia. La strada è stata riaperta prima del previsto grazie alla conclusione anticipata dei lavori sullo spartitraffico all'altezza di via di ponte Salario. Da lunedì a mercoledì invece dalle 22 alle 6 tre notti di lavori sulla Roma Fiumicino a cura di Anas. Sarà chiuso lo svincolo Parco dei Medici in direzione Fiumicino mentre sul raccordo anulare chiuderà l'uscita centro Euro. Infine il trasporto pubblico ancora deviata alla linea 911 in direzione dell'ospedale San Filippo Neri per lavori sulla rete Acea. È chiuso un tratto di strada tra piazza dei Giochi Delfici e via della Camilluccia. I bus deviano per via Cassia, Viale Cortina a Danpezzo e via del Forte Trionfale. Per il momento è tutto. Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità.